TORTIRETE 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 ok c'è una cosa? ah ah c'è una cosa interessante e come è un'esitato? come on, non si può essere così e non ci sono più vicino con gli altri vi ho detto di un po' no, il tempo è lì non ci sono su carri non è un'esitato sai tu sono un'esitato grazie a tutti Viva amì parì, dov'è giudì, chai mi vè chai, tor' hi shet kha tà, tor' tìrè thè giù ari bhi srò, a'ma r tìrè bha tà, tor' shat mò, mò nèr mì lò, chai nare bhi dhata. kari sharae, tor' mò nè thè, a toh shukh e ra-she, Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Tu mi dà cosa ho lei, amai tu qua giusti. Ah, certo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info